musica 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 cerire sempre in altra partita musica 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 prenda schiappi per far svegli gatto che po' addirittura quelli veli, cazza fermati Nooo, non può fermarmi Fala dove va quel drone lì Blizz qua Dov'è no? Te l'ho spottato Dov'è no? Dov'è no? Duv'è no? Blackbeats è volto! Il drone è il mate Sì di te Occhio Eh, ecco esatto, lì davanti Occhio, il sedeggio È entrato Bella Eh, ecco lì Bella mate Uff Wow Cristo La fortuna era messo male Eh Perché non farò 5 kill con Sledge, non ce la fiero Io ancora sento i rumori dell'obiettivo di sotto Che non c'è più Sono nell'altro palazzo comunque Sicuro, se suona qui Si è buggato Sì Sì Dai, ero già oltre la porta 10 secondi da andare Ok, filo, è il trifidato Eh vabbè Vabbè, sappiamo che siamo sotto Ciao Sì 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 Quasi visto? Una finestrella come ho fatto Ho preso una stronzetta con le tre camere Valkyria Sì E' uno qua da me Ah uno davanti a me mi ha ucciso Ah fancula Rock Smoker rimane smoke dentro e gli altri due sono fuori Oh aspetta madonna Dark mi ha fatto per un colpo Tra le mine Oh non è morto eh non è morto In faccia ho sparato e non è morto No No Questo ricarica in davanti a 30.000 nemici dai Che cappella che fa No basta che cambiava arma E' un microco di vita aveva cazzo Ovviamente poi le partite di due passi due headshot Eeeeh Mi vengono male Mi vengono male ovviamente no Sotto per un coglione Sotto per un coglione Rerroading New camera feed up and running Down to ten seconds Sotto per un coglione 5 secondi e si tratta 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 Madonna Aspetta oh giocate voi cazzo Eh gli stanno entrando tutti da lì Vabbè senti io aspetta E' ancora la base C'è uno ancora lo spawn Davvero C'è uno di loro si è Presentate le camera Guarda ma che roba, hai presentato le telecamere che inquadra il sentiero, no? Cioè arriva, eh, c'è uno proprio indietro verso la telecamera 1, quello che hanno già fatto scoppiare all'inizio. Cazzo si fa là, non si sa. No, l'avevo quasi ucciso termine. Quanto gli è rimasto? Preso, preso. Bella. Spadal to cut out. Halo. Poi magari certi video li prendono anche dalla live se... Ma si, se vengono bene. Come l'ultima volta con Jäger, preso qualche video anche dalla live. Ma si, Dark, ma i video ci fanno, porta 3, giochiamo sempre a Rimm. Oh. Non ho visto andare di su, però va a che via. Quasi lo scelto di su, però. Sempre a scelto di palazzi, se niente. Mi sono passate 40% davanti e non ho spottato da solo, non è possibile. Da recluta o sembra me? Sì. Non è che non l'hanno chiuso, però. Mi conto se è pronto, Matt, che apro, eh. No. Aspetta. Deve riuscire a provare. Hai visto un po' qui che ti va? Ho dovuto aprirlo perché c'era uno. Arrivo. C'è sempre uno lì. Oh, da dietro. No, ma ho ucciso un altro. Dentro la stanza, Valkyria. Ma che roba, c'era il tizio, c'era Buck. Controllava dietro di noi. Ho dovuto ammazzare io la recluta. C'è Valkyria probabilmente dietro il muretto appena... Dove è porto il burro? Parita. Era dietro quel muro prima, non so dove è andata adesso. Sì no, ancora là, ancora là. Ho preso Valkyria. Il drone ancora c'è lì dentro, Dark? Sì sì, ma lo so dove è, lì dietro. E lo spotto per tutti. Se lo lasci fermo ti posso guardare io nel drone? Ecco. Ok. Oddio, non so come ho fatto. Ho un colpo qui. Ho sparato al coso poi. Al suo corpo. Come ha fatto a prendere la testa? Oddio. In testa? Scambio bar in mea, assurdo. Oh, c'è armato il 90. Il suo scar. Il backup è 11 in su. Guarda come ti tieni la vita. Guarda come ti tieni la cinturina. Ma cazzo, la faccia è fosforescente. Meticissimo, scusami. Signor, cazzo. Ciao. Grazie a tutti Grazie a tutti